Tanta voglia per tutti ragazzi, qui è MrFerix e ovviamente ragazzi orli miei, è domenica, è domenica, siamo dopo pranzo, siamo quasi in trepidazione perché c'è il derby di Roma e prima del derby vediamoci queste top 5 meravigliose che ci hanno mandato in questa settimana passata. In quinta posizione ragazzi abbiamo Xidex, vabbè come al solito che non mi mi c'è in picco che ci porta su Far Cry 4 ed entra in Takkar Mode, infatti a parte la prima kill e vabbè ci sta ma guardate che cosa ti crea qui con questa seconda kill, con l'arco da lontanissimo mezzo in movimento è veramente molto difficile fare questa kill. Steno99 ci porta su Black Ops, questa volta stranamente solo quarta posizione per Black Ops, comunque sia clip molto valida però sicuramente come è stato detto anche nei commenti, come ho detto anche voi nei commenti, era sicuramente o host o aveva una condizione migliore perché gli altri nonostante lo attaccassero sembrava ci fosse un leggero ritardo nei colpi. Ovviamente però il ritardo degli altri non implica il fatto che la clip non sia valida, quindi quarta posizione per Steno99. Terza posizione ce l'ho messa io perché Mileto fa qualcosa di veramente molto molto difficile, infatti con il lanciarazzi abbatte un aereo che era in movimento veramente tanta roba. Seconda posizione abbiamo Rainbow Six Siege, questo gioco ragazzi vi sta veramente veramente piacendo. Abbiamo Striggy Man in 1 contro 5 e qui parte qualcosa, veramente il massacro. Purtroppo non so per quale motivo non c'è l'uccisione finale, comunque sia anche se fosse uno, diciamo anche se non fosse un Ace, fosse soltanto 4 kill, veramente tanta roba perché rimane con pochissima vita dopo il primo attacco e nonostante alcuni front, diciamo qualche attacco frontale tipo questo che stiamo vedendo riesce a resistere ed è veramente una gran bella azione. E diciamo la clip dovrebbe di più, però non essendoci la kill finale vi tolgo diciamo tutta la cosa inutile perché non si sa, quindi se fosse un Ace, se non era un Ace, insomma faccio sapere Striggy se era un Ace o se semplicemente so 4 kill. E ragazzi qui sono veramente contentissimo perché c'è Valerio che ci porta su Skill Special Force 2, gioco raro per quanto ci riguarda, anzi la prima volta che inseriamo questo gioco a vederlo sembra avere le meccaniche, mi sembra molto simile a Counter Strike, ovviamente io sono totalmente ignorante, questo gioco l'ho visto per la prima volta con questa clip, ma qui abbiamo Valerio che fa veramente un'azione molto molto bella, infatti va fuori tutti quanti e soprattutto sono contento perché vi è piaciuto molto questo gioco, quindi inviate giochi come vedete, non dite che pubblichiamo sempre le solide cose, se inviate clip decenti, belle e valide noi pubblichiamo qualsiasi gioco esso sia. Quindi non l'ho toccata, ha ricevuto più like in questa settimana questa clip di Valerio e complimentone a lui per questa prima posizione su questo gioco nuovo. Bene ragazzoli miei, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto e una piccola cosa, vedo che molti cercano di aggiungermi su Facebook tra le amicizie, però ragazzi non vi accetto per motivi diciamo di private, insomma quel profilo lo vorrei tenere, non dico privato però quantomeno con solo amici che conosco, per questo motivo ho attivato i seguaci, quindi se volete seguire me o altri membri dello staff su Facebook abbiamo quasi tutti i seguaci attivi, seguiteci tramite seguaci oppure su Instagram, sui nostri canali ufficiali o sui canali privati. Da Ferix è tutto e noi ci vediamo domenica prossima, un salutone. Ciao